Tentano di rubare gasolio in un agriturismo in località San Cesario a Fano, ma scatta l'allarme e il colpo va a vuoto. Ecco il progetto delle Terme di Carignano, l'investimento di 41 milioni di euro per il centro termale, spa, ristorante, palazzina e clinica privata, dubbi e polemiche sulla convenzione dei 50 posti letto di ortopedie. Quasi 200 operatori sanitari di Marche Nord e Arevasta 1 rischiano il posto di lavoro, i contratti scadono il 31-12 e il futuro è incerto con la nuova riforma. I sindacati chiedono alla regione risposte certe e soluzioni, altrimenti sarà mobilitazione. Esondazione dell'Arzilla, il comune di Fano e il CB Club Mattei fanno prevenzione, domani assemblea pubblica Gimarra e domenica 6 novembre l'esercitazione lungo il torrente, circa un migliaio i cittadini coinvolti. È di oltre 23 mila euro la cifra raccolta grazie al concerto di beneficenza per i comuni colpiti dall'alluvione, l'assegno consegnato dal sindaco serie alla Caritas Diocesa. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il furto sventato lunedì sera in un casolare ristrutturato in località San Cesario nel comune di Fano. Intorno alle 21.30 ai proprietari dell'agriturismo e alla centrale operativa della vigilanza privata è arrivato l'allarme fatto scattare dai rilevatori con fotocamera installati all'esterno dell'immobile. Dai fotogrammi si notava la presenza di una macchina all'interno della proprietà. Subito dopo è arrivato un altro allarme attivato dal sensore messo a protezione della cisterna del gasolio agricolo. I ladri quindi stavano cercando di manomettere lo sportello di erogazione per rubare gasolio e la fotocamera ha permesso di seguire i fatti in tempo reale. Intanto come documentato dalle foto la sirena attivata dal sensore ha fatto allontanare i malintenzionati a bordo dell'auto. Uno di loro poi è sceso e si è nascosto attendendo probabilmente che finisse il suono della sirena. Infatti dopo un po' si è avvicinato alla cisterna dove è scattato di nuovo l'allarme facendolo scappare definitivamente mentre la pattuglia della vigilar stava arrivando nel casolare. Per fortuna i ladri se non sono andati a mani vuote visto che non sono riusciti neanche a manomettere lo sportello della cisterna. È stato fondamentale dunque l'efficienza dell'impianto installato. Invece ieri sera la guardia costiera e i vigili del fuoco hanno sventato il pericolo di incendio a bordo di un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Fano. L'allarme è scattato grazie a un passante che dopo aver sentito la richiesta di aiuto ha segnalato ai militari una persona accolta da malore a bordo di una unità da di porto. Scattata la catena dei soccorsi il 118 ha portato il malcapitato e rimasto cosciente all'ospedale Santa Croce mentre i militari della guardia costiera durante l'attività di ricognizione e di ricostruzione di quanto accaduto hanno avvertito un odore di bruciato. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri che hanno individuato una pentola contenente cibo in avanzato stato di cottura con ancora il fornello a gas acceso. Per fortuna non sono rimaste coinvolte altre persone. Ed ora passiamo al progetto delle terme di Carignano che ieri è stato presentato alla città. Allora vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Che naturalmente va portata a una temperatura. Hotel a 5 stelle, centro termale, ristorazione clinica privata per un investimento complessivo di 41 milioni di euro sarà immerso nel verde il progetto del gruppo Romani che ieri al Cinema Masetti ha presentato il piano di rilancio delle nuove terme di Carignano, un appuntamento atteso da tempo che è stato inserito nelle iniziative legate agli stati generali del turismo. Erano presenti amministratori pubblici, associazioni e cittadini ai quali è stato illustrato il progetto di Massima che comprende anche il restauro della palazzina storica destinata ad eventi, incontri e iniziative culturali. L'ingresso condurrà i vari complessi, la spa con piscine avrà le pareti aperte sul verde mentre l'albergo sarà composto da 132 stanze tra cui diverse suite di dimensioni differenti. In totale è prevista l'assunzione di 400 dipendenti con il coinvolgimento indiretto di altre 750 persone. Per la realizzazione invece sono stimati tre anni e l'investimento dovrebbe portare ad un aumento del PIL della città di Fano pari al 5,3%. Gli scuoli principali sono quelli di restituire le terme al suo splendore, aumentando i servizi, aumentando le opportunità, realizzando una struttura ricettiva in grado di accogliere a pieno la bellezza di tutto quel territorio e allo stesso tempo di immaginare un insediamento che rimanga neutro rispetto alla bellezza attuale, cioè sostanzialmente a impatto zero. Sarà un circuito a proseguito Natali che offrirà svariati servizi, dalla cura della persona al benessere. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla clinica sanitaria, con 100 posti letto a vocazione ortopedica. Di questi, 50 potrebbero ottenere la convenzione dalla regione, ai quali se ne aggiungerebbero altri 10 messi a disposizione del gruppo romani. L'obiettivo è quello di fermare la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna. Noi offriamo al territorio una sanità marchigiana, perché il nostro gruppo è il più grande gruppo della regione Marche sulla ospedalità privata, al territorio della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo offerto un contenitore, abbiamo immaginato un contenuto sulla base di quelle che sono gli atti attualmente disponibili, e quindi una struttura a vocazione ortopedica, ma naturalmente la regione è in grado di indicare quali sono i bisogni, quali sono le risposte alle quali noi possiamo fornire delle risposte, delle domande a cui noi possiamo fornire risposte. E come avete sentito, saranno ben 100 i posti letto nella clinica sanitaria, di cui 40 privati e 60 convenzionati. Su questi ultimi oggi è intervenuto il partito socialista di Fano. Non condividiamo, hanno detto i socialisti, la messa a disposizione e il trasferimento al privato di posti letto pubblici essenziali per la sanità pubblica già carente. È importante invece che la regione Marche assicuri le convenzioni necessarie per le cure termali, per quelle patologie riconosciute dal sistema sanitario nazionale, hanno concluso, coinvolgendo la città di Fano e non penalizzandola come accaduto in passato. E anche per l'Udc di Fano i 50 posti per l'ortopedia devono essere messi prima a disposizione della sanità pubblica. La clinica privata, come ha anche precisato l'Avvocato Natali, è un valore aggiunto al pubblico e va valutata nelle sedi preposte. Importante e strategico per l'Udc è il casellino autostradale Fano Nord, quindi quello di Fenile, di cui la regione ha già espresso la nota positiva per la sua realizzazione. Sentiamo invece che cosa ne pensano il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, e il comitato. ...produca una specie di processo. Sono rimasto particolarmente piacevolmente stupito del valore del progetto che potrebbe essere premiato anche a livello nazionale o internazionale. Ne è convinto il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha apprezzato il piano di rilancio delle terme. Un bellissimo progetto di altissima architettura, di altissimo valore, che sicuramente è un progetto che diventa un attrattore di forti investimenti, di grandi opportunità per il territorio, ma la bellezza è proprio un progetto che dialoga con l'ambiente circostante, che entra in punta di piedi, che non impatta con l'ambiente ma ad altissimo livello. E quindi penso che per la nostra città, ovviamente siamo ad una presentazione di un'idea progettuale, anche se ci sono stati studi approfonditi, però non è ancora un progetto a tutti gli effetti presentato, però ecco, è una grande occasione che può far fare un salto di qualità alla nostra città, che si unisce a tanti altri progetti di riqualificazione di valore che la città sta facendo. Ma questo soprattutto diventa un attrattore di anche turismo termale di alto livello, che si lega anche alla cura della persona, al benessere, quindi effettivamente valorizzazione anche della parte storica, tutelata, mantenuta nel verde con il fascino che ha. Soddisfatta anche Beatrice Morbidoni, presidente del comitato, che per anni si è battuto per la riapertura delle terme di Carignano. Per una città come Fanno sarà un volano per l'economia, quindi devo dire che veramente è stata una bella presentazione, molto ampia e abbiamo capito il valore di quello che abbiamo già nella nostra città e che diventerà ancora maggiore. Quindi abbiamo delle acque meravigliose, molto curative, che verranno sfruttate nella miglior maniera e in più avremo tutto ciò che ne consegue, quindi a livello di spa, a livello di benessere, ma anche a livello curativo, a livello di clinica e quindi penso che sia un progetto a tutto tondo. Cambiamo argomento e passiamo ai contratti in scadenza del personale sanitario e alle diverse preoccupazioni espresse dai sindacati con la riorganizzazione sanitaria in atto. Se non otterranno risposte adeguate dalla regione, sono pronti a intraprendere forme di mobilitazione. Sono 400 in tutte le Marche e quasi 200 nella provincia di Pesero Urbino, tra Marche Nord e Area Vasta 1, le figure sanitarie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Infatti la regione si deve ancora esprimere sulla proroga dei contratti in scadenza a fine anno. I dipendenti a tempo determinato si trovano dunque in una situazione di incertezza dopo mesi di lavoro con carenza di personale, turni massacranti, riposi saltati e doppie notti. Senza dimenticare il duro lavoro svolto, sempre in prima linea, durante la pandemia. I sindacati di riferimento hanno già espresso dubbi, osservazioni e rimostranze. La regione li ha convocati per il prossimo 8 novembre per avviare il confronto preventivo sulle future condizioni che verranno generate dai nuovi assetti. Infatti dal 1 gennaio l'azienda Marche Nord verrà incorporata nella nuova azienda sanitaria territoriale di Pesero Urbino. Dalla regione le direttive sono state di prorogare i contratti per i sanitari, infermieri e operatori sociosanitari, solamente fino al 31-12 del 22 appunto. Mentre invece, cosa anche preoccupante per gli amministrativi, il tutto si è concluso il 30 di settembre di questo anno. Oltre a questo che cosa vi preoccupa della riorganizzazione sanitaria in atto? Noi già adesso abbiamo il numero di posti letto per acuti nettamente inferiore alla media nazionale e regionale. Quindi ci aspettiamo che le risorse vengano distribuite per anche far fronte a questa criticità che noi ci troviamo ad affrontare. E invece i sanitari potrebbero essere spostati nelle varie strutture della provincia? È una problematica importante in quanto i lavoratori si potrebbero trovare da un giorno all'altro a essere spostati da una sede all'altra con notevole disagi sia per l'organizzazione familiare che ognuno ha che si è costruito in questi anni. Inoltre anche un dispendio economico in quanto spostarsi nella nostra provincia sappiamo che è molto ampia. Ad esempio da Pergola andare a Urbino sono tantissimi chilometri e questo creerà ancora di più un disagio. Altro tema da affrontare sarà quello delle stabilizzazioni che spetterebbero anche a molti dei lavoratori che hanno il contratto in scadenza il 31 dicembre. Parliamo di stabilizzazione ordinaria, quella che prevede i tre anni di servizio negli ultimi otto, ma anche la previsione della stabilizzazione per i lavoratori che hanno prestato servizio durante il periodo Covid che si riduce dai 30 mesi ai 18 mesi. Su questi due anni molto difficili hanno acquisito un'esperienza importante. Sarebbe a nostro avviso giusto dargli il giusto riconoscimento. E di chi è la competenza? La competenza è dell'azienda sanitaria in questo caso. Se non otterremo delle risposte dalla regione, ovvero delle soluzioni dalla regione alle problematiche che stiamo affrontando, in accordo con i lavoratori avvieremo delle mobilitazioni e anche delle campagne di sensibilizzazione per i cittadini. Il Comune di Fanno, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato e di Protezione Civile, CB Club Mattei, ha organizzato due appuntamenti che hanno l'obiettivo di rendere consapevoli e parte attiva i cittadini sui comportamenti e sulle modalità di evacuazione in caso di esondazione del torrente Arzilla. Domani dunque ci sarà un'assemblea pubblica a Gimarra, mentre domenica 6 novembre è prevista una esercitazione. Assessore, partirà domani sera questo nuovo progetto di prevenzione? Dove si svolgerà e a chi è rivolto? Sì, è un progetto di prevenzione e illustreremo ai cittadini il piano di protezione civile che il Comune di Fanno ha redatto e come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, andando al Vallato, andando a Cucurano, andando insomma a illustrarlo nei quartieri, quest'anno, visto e considerato anche quello che è successo a Cantiano recentemente con le esondazioni dei torrenti, abbiamo deciso di spiegarlo ai residenti del quartiere Arzilla e di Gimarra. Dunque lo faremo domani sera presso la sala civica di Gimarra, dove appunto alle ore 21 i tecnici comunali, insieme a me, insieme ai volontari della protezione civile, in particolare del CB Club Mattei, illustreranno quali sono i comportamenti da tenere durante un evento, diciamo, di protezione civile, quindi ad esempio l'allagamento, oppure il terremoto, oppure altri eventi che potrebbero succedere, che potrebbero essere, come dire, pericolosi per le persone. Però, ecco, quest'anno abbiamo dedicato appunto all'esondazione del torrente Arzilla una speciale attenzione. Per questo abbiamo invitato anche il sindaco di Cantiano. E quindi, ecco, crediamo che sia un momento per confrontarsi con la popolazione, per spiegare i comportamenti, per dire cosa prevede il piano, e insomma per vivere anche, come dire, tutti gli eventi in maniera più tranquilla, almeno consapevole. Quante sono le persone coinvolte? All'incirca sono un migliaio le persone a cui abbiamo invitato un invito appunto a partecipare e sono fondamentalmente concentrate nel quartiere vicino alla ferrovia, vicino all'Arzilla, il quartiere dell'Arzilla appunto, e anche quella zona che si trova nel sottopasso autostradale a Centinarola. Domenica 6 novembre un altro appuntamento importante perché ci sarà una vera e propria esercitazione. Sì, diciamo un'esercitazione. Per quello che competta il volontariato, di norma quando arriva un'allerta il Comune di Fano apre il cocche e quindi avvisa i volontari di partire per un monitoraggio. In questo caso domenica simuleremo che il Torrente Arzilla, in pratica l'acqua, supera i livelli. A questo punto spiegheremo sia domenica sia anche domani sera quali sono i punti di attesa esattamente, dove si deve portare la popolazione, dove troverà un volontario piuttosto che una forza dell'ordine a dargli le indicazioni giuste, se poi la cosa è importante verranno portate nelle aree di ammassamento e quant'altro. Noi faremo questo in pratica, andremo direttamente sul posto ad avvisare la cittadinanza domenica che deve abbandonare in pratica le proprie case e deve portarsi esattamente in quella zona. Questo è un po' il nostro compito del volontariato. Ecco, lo vediamo evidenziato anche nello studio che è stato eseguito. Quali sono i punti più a rischio? I punti più a rischio sono quelli evidenziati in pratica in blu, che sono quelli dove l'acqua, in casi eccezionali, dove arriva l'acqua. Quindi qui all'interno, come diceva l'assessore, ci sono un migliaio di persone che vanno comunque evacuate, che vanno avviciate. Come è successo un po' nel 97 del fiume Metauro, siamo passati con gli autoparlanti, siamo andati casa per casa perché avevamo un fontanazzo dall'altra parte, uno zampillo d'acqua e quindi si prevedeva la rottura dell'argine. In quel caso abbiamo avvisato tutta la popolazione di abbandonare le proprie case e qui faremo la stessa identica cosa, specialmente in queste aree dove è già previsto l'induzione. Qui siamo sicuri che se l'acqua sarà tanta arriva. Soluzioni flessibili e modulabili da valutare in base ai singoli istituti e quanto emerso dal vertice tra provincia di Pesero Urbino e presidi delle scuole superiori convocato per discutere dei problemi legati all'aumento dei costi dell'energia e del riscaldamento. Infatti sull'anno scolastico la provincia è passata da un milione e mezzo e cinque milioni delle ultime proiezioni. Ad ogni preside, ha spiegato Paolini, invieremo una richiesta formale. Dovranno indicare per ogni scuola necessità ed esigenze di organizzazione interna. Dai dirigenti scolastici invece è emersa la posizione che nel breve periodo si può agire su due direttrici, settimana corta per chi può attuarla e ottimizzazione degli spazi nelle attività pomeridiane. Questo significa che se l'attività venisse fatta su due aule è inutile riscaldare tutto il plesso. È di 23.400 euro la somma ricavata dal concerto di beneficenza per gli alluvionati organizzato domenica scorsa a Fano. All'iniziativa di solidarietà hanno partecipato circa 2.500 persone. Questa mattina invece l'assegno firmato dal sindaco di Fano Massimo Serri è stato consegnato alla Caritas Diocesana. Il servizio è di Filippo Pucci. La maratona concerto di beneficenza a favore degli alluvionati colpiti dal forte maltempo dello scorso 15 settembre che si è svolta alla Rocca Malatestiana di Fano ha riscosso un grande successo. L'iniziativa con il cuore nel fango ha visto numeri da record con oltre 50 band presenti, 180 musicisti e due palchi con esibizioni dalle 14.30 fino alla mezzanotte. Questa mattina in comune presentato l'incasso della serata di 23.400 euro. L'assegno è stato consegnato alla Caritas Diocesana e sarà diviso per le località di Cantiano, Pergola, Cagli, Frontone e Serra Sant'Abbondio. Adesso attendiamo un attimo l'incontro con gli amministratori per capire come suddividere la cifra tra i cinque comuni e questa cifra verrà poi destinata in accordo con i comuni coinvolti secondo dei criteri condivisi insieme a loro che tengono in considerazione il livello di vulnerabilità sociale e il livello del danno subito dall'alluvione. A fianco di questa cifra poi verranno anche affiancate ulteriori contributi nel corso delle prossime settimane o mesi. Questo passa attraverso la Caritas anche per accelerare il processo d'aiuto che è più rapido rispetto a tutto l'iter amministrativo poi per eventuali rimborsi su questo. Ad esprimere grande soddisfazione è stato poi il primo cittadino Massimo Seri. È stato un bellissimo messaggio fatta con sentimento, con partecipazione anche nei confronti delle comunità che sono state colpite dall'alluvione. È stato un messaggio di speranza, un messaggio di solidarietà, un messaggio di una grande comunità perché è un'iniziativa che non era della città di Fano ma di tutto il territorio. Quindi veramente grande soddisfazione ma soprattutto grande orgoglio di un territorio che sa rispondere in questo modo trasmettendo un'energia straordinaria. Oltre 250 le persone che si sono messe in gioco tra service, fonici e tecnici, food track, volontarie e così via per una serata dedicata interamente alla beneficenza. Nonostante tutto, nonostante la grande cifra è stata più la semina che il raccolto perché si è creato un vero movimento di musicisti, un vero movimento musicale. Di certo non possiamo notare questa cosa, quello che ci sentiamo di fare è comunque in qualche modo trovare la via per continuare questa esperienza, per mettere a disposizione questo movimento così forte affinché il riflettore non solo sul palcoscenico ma anche sulle zone alluvionate non si spengano. Dieci ore di musica non stop e più di duemila persone intervenute negli spazi esterni ed interni alla Rocca. Visto che si parla di un'altra edizione, quindi di continuare il nostro percorso ci sarà anche modo di continuare questo discorso anche con altre band e altri musicisti. Un ringraziamento alle anime, ai cuori e alla musica che unisce sempre, che ci dà grande carica e a questa macchina meravigliosa perché non ho lavorato solo io a questo evento, ma a te a priori tutti i ragazzi, i volontari, i fotografi, insomma veramente una macchina che sia funzionato è perché c'è stato un grande lavoro di unione, di consapevolezza e di competenza. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla 57esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Domani invece si rinnova l'appuntamento con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti alle 7 in diretta. Buona serata. Grazie per la visione. Grazie a tutti.